Sesta corsa premio Tevere, una condizionata per soli anziani di 5 anni, sono 8 alla via, con il numero 1 di Anastasia Tav, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo nel ruolo di netta favorita, con il 2 a rundo debuti Emanuele Pettinari, con il 3 a delle F Davide Angeletti per Giustino Panico, con il 4 Anita Ioresem e Roberto Vecchione per Olga Reret, con il 5 augurio P Maurizio Cheli per Andrea Sarzetti, con il 6 Anteo Del Ronco Enrico Bellei, con il 7 Amore Stecca Roberto Faticoni a completare la prima fila, da solo in seconda fila con il numero 8 Abis Waisa S Alessandro Cocciadoro, questo lo schieramento di questa sesta corsa del convegno di Capannelle, rinuncia al lancio ma comunque parte sempre piano Amore Stecca con il numero 7, con cautela anche Anteo Del Ronco e Adele F, lungo la corda Anastasia Tav attaccata da Augurio P, e i due precedono a rundo debuti, con Augurio P che dopo averci provato si accoda all'avversaria, e il lancio di Anastasia Tav che va via in 13 e mezzo, Augurio P e la sua scia, davanti a rundo debuti, all'esterno a Nota Ior SM, poi in terza ruota prova a migliorare Anteo Del Ronco, che viene prevenuto da Abis Waisa S, allora insiste deciso a largo, e va diretto contatto di Anastasia Tav, anzi cerca di sorprenderla, c'è la reazione di Anastasia Tav ma proprio di precisione, Anteo Del Ronco sopra avanza Anastasia Tav che però gli è rientrati, allora Anteo Del Ronco sbaglia, imboccando la seconda curva e lascia Anastasia Tav in vantaggio, su Augurio P e Anita Ior SM all'esterno, c'è stato strappo davanti alle tribune perché Enrico Bele ha provato la mossa sorpresa con Anteo Del Ronco, Anastasia Tav giunge a metà gara in 59 e mezzo, e ora c'è Anita Ior SM che va a lavorare al salchi della leader, Augurio P invece all'esterno a Abis Waisa S che finora ha ottenuto sempre la scia di Anita Ior SM, e infatti attacca ora in terza ruota a Abis Waisa S, poi ci sono Arundo De Buti e Amore Stecca, Abis Waisa S che sta mettendo via Anita Ior SM e prova ad andare a incalzare Anastasia Tav in 1.2 in 1.14 secco, in 1.28 secco, l'errore di Augurio P che ha anche un parziale cross con Anita Ior SM, mentre Abis Waisa S attacca a fondo Anastasia Tav e sembra in grado di passare con facilità, Anita Ior SM in terza posizione davanti a Rundo De Buti, Abis Waisa S che si stacca facilissimo vincitore, la corsa gli è venuta bene ma non c'è stata partita quando Alessandro Gocciadoro gli ha chiesto di andare, è andato e ha dominato la favoritissima Anastasia Tav, 1.56.8 sul mio cronometro, significa media di 1.13 secco per Abis Waisa S, questo figlio di Maragia allenato da Alessandro Gocciadoro, che era naturalmente l'interprete, i colori sedi della scuderia Ale e Deni per la facile affermazione di Abis Waisa S su Anastasia Tav, mentre per il terzo posto sono finiti i vicini, vediamo scorrere le immagini, Anita Ior SM a Rundo De Buti, dopo l'errore di Augurio P vediamo sul traguardo che probabilmente Anita Ior SM all'esterno controlla a Rundo De Buti e quindi dovrebbe essere 8.14 l'arrivo ufficioso della Sesta e Capannella, lì nello studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.